Sono 11.700.000 gli anziani che in Italia non hanno ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid e sono quasi 7 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno nemmeno una dose di vaccino. Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana, dal 30 dicembre al 5 gennaio. 6.150.000 sono persone attualmente vaccinabili, 630.000 invece sono temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni. Sempre al 6 gennaio risultavano somministrate 40 milioni di terze dosi, in base alla platea ufficiale il tasso di copertura nazionale è dell'84,8%. 7 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster. Sono state somministrate 5 milioni e mezzo di quarte dosi. Il tasso di copertura nazionale è del 29,7% e ci sono nette differenze regionali. In Piemonte il tasso del 43,6%, in Calabria appena il 13,4%. Per la quinta dose non sono disponibili dati ufficiali. Grazie. 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 Grazie.